salve a tutti signore e signori il vostro strano amico andrea beneventi è qui per rispondere ad alcune domande che mi avete fatto su instagram scusate se ci ho messo tanto per portare questo video però lo stesso giorno in cui pubblicai la storia con all'interno il box delle domande c'è stata la morte di un personaggio per molte persone anche per me molto caro che liam pain dei one direction quindi non sono riuscito a registrare questo video subitissimo perché ero ancora stunnato da questa notizia oltretutto sono stato a un raduno però adesso che non ho più cazzi per la testa ho la possibilità di rispondere in un video alle vostre domande ovviamente il link di instagram lo trovate in descrizione partiamo subito con il botto perché la prima domanda è quando ci presenterai la tua ragazza diciamo che attualmente io mi ripeto tantissimo in una cosa che disse il masseo che ha fatto il giro del mondo quasi non è tanto una condanna il fatto che io sia single è più che altro una scelta in questo momento non mi sento veramente innamorato a tal punto di dichiararmi a una ragazza o cose simili me la vivo tranquillamente con me stesso e con i miei amici più stretti e me la passo abbastanza bene domanda più chill preferisci la pizza o il sushi da terrone quale sono direi pizza ma non tanto per quello io credo che la pizza sia uno dei piatti più versatili di questo mondo tu puoi metterci sopra qualsiasi cosa e sarà comunque buona tranne se ci metti l'ananas io purtroppo ho avuto la sfortuna di provare il sushi soltanto due volte il mio piatto preferito sicuramente è stato l'onigiri comunque si preferisco di gran lunga la pizza capitolo di half life preferito se dici che non l'hai mai giocato sei una parola con la n stai tranquillo perché io half life anzi gli half life li giocai tantissimo tempo fa non ho molti ricordi legati ai videogiochi nella loro completezza il ricordo più grande che ho legato a questo gioco è sicuramente la famosa scena introduttiva mi pare perché era doppiata malissimo e ci hanno fatto tantissimi meme sopra si svegli mister freeman e so che è uscita la remastered di quello specifico gioco ed era half life 2 il doppiaggio l'hanno nettamente migliorato quindi sono curioso di vedere e sentire come l'hanno migliorato comunque sì l'ho giocato e onestamente mi piace anzi mi è piaciuto però non sono mai stato un appassionato domanda abbastanza controversa e meme ti piacerebbe andare a nigeriani con me non non voglio discriminare cioè so che questa domanda l'hai fatta per il meme però non vorrei discriminare i miei fan nigeriani però non lo farei mai ma più che altro perché lo dovrei fare tra l'altro tu hai scritto nigeriani neanche nigeriane adesso io sono aperto a qualsiasi orientamento sessuale cioè per esempio se qualcuno si avvicina a me e mi dice mi piacciono i maschi io non contraddico i suoi gusti perché ognuno ha la libertà di vedersi come vuole però io preferirei farlo con delle nigeriane piuttosto che con dei nigeriani ma no in generale io sono un uomo per bene e non farei mai sesso occasionalmente domanda bellissima devo dire che ci azzecca molto con quello che abbiamo fatto di recente su twitch cosa ne pensi di steins gate 0 piccolo disclaimer prima di rispondere alla domanda per dire cosa ne penso dovrò fare degli spoiler quindi schippate direttamente alla prossima domanda devo dire che all'inizio non avevo tutte queste aspettative perché sapete è un midquel in genere i midquel slash spin off non sono mai la parte più interessante di un franchise però devo dire che ha preso tutte le cose che mi piacevano del dello steins gate originale e le ha portate a un livello più alto sì giustamente ci sono vari difetti presenti nello steins gate originale che poi sono stati riportati in steins gate 0 per esempio la presenza di alcuni filler inutili che andavano ad allungare il brodo però steins gate 0 ne ha messi di meno ma molti di meno un altro fattore che ho apprezzato della serie originale che comunque ti metteva davanti pochissimi personaggi principali però quei pochi sono essenzialmente tutti i personaggi che avresti poi visto nel susseguirsi della serie però secondo me a livello di caratterizzazione non mostravano propriamente tolti ovviamente okabe e kurisu ma degli altri personaggi non mostravano mai il loro lato interessante per esempio tu faccio l'esempio soltanto con un personaggio perché è il primo che mi viene in mente se tu prendi itaro ashida tu vedi i primi episodi dove compare tu capisci che vabbè sarà il nerd di turno che aiuterà okabe per il resto della storia che ne so corrompere i sistemi rete eccetera eccetera e soprattutto che ha un debole per le ragazze 2d invece in steins gate 0 ha fatto un glow up assurdo perché prima cosa si è finalmente dichiarato a una ragazza vera nel mondo di steins gate ovviamente ed è stato l'unico personaggio al di fuori di kurisu a far ragionare okabe sul non agire di fretta pensando soltanto ai propri beni personali perché ragazzi nel nel primo tempo di steins gate 0 lui era veramente distrutto dopo la scomparsa temporanea di kurisu infatti si vedeva anche da come si vestiva che era un vestiario molto diverso da quello dello steins gate originale anche il suo carattere era molto più caricaturale i vestiti ovviamente rispecchiavano quello che è un classico scienziato pazzo invece in steins gate 0 vediamo un okabe spento questo sicuramente storcerà l'occhio a tutti quelli che sono stati abituati all'okabe dello steins gate originale però secondo me è un ottimo flip di storia poi va bene gli ultimi cinque quattro cinque episodi di steins gate 0 si dà la carica per ritornare in carreggiata a modi chioma o in lo scienziato pazzo e quello là è stato uno dei momenti clou più belli forse dell'intera serie scusate se vi ho annoiato così tanto parlando di steins gate però è un anime un franchise che a me piace molto e non vedo l'ora di recuperarmi sia il manga che i videogiochi in conclusione io do un bel 9 ovviamente questa domanda non poteva mancare il tuo gioco di sonic preferito io cerco di dividere i miei giochi di sonic preferiti in base alla categoria se si parla di giochi 2d il mio preferito è sonic 3 knuckles un classico invece il mio gioco di sonic 3d preferito è il primo adventure però la versione originale non quella gamecube lo so il il me stesso di 5 6 anni fa avrebbe qualcosa da ridire su questa opinione però si cambia si cresce e per fortuna direi i miei gusti sono cambiati ragazzi siamo giunti alla fine fatemi sapere sotto nei commenti se questa tipologia di video vi piacciono e se volete farmi qualche domanda ogni tanto il mio instagram come sempre lo trovate in descrizione così come tutti i miei altri social se volete anche condividete sia questo video che il mio canale con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima ciao